Liberati ad El Arash i sette uomini della sicurezza egiziana rapiti una settimana fa nel nord del Sinai da militanti islamisti. Alla liberazione si sarebbe arrivati grazie alla collaborazione dei capi tribù beduini con i servizi segreti. I sette sono stati accolti al Cairo dal presidente Morsi in persona, che era stretto fra la linea dell'intransigenza nel non voler trattare con i rapitori e le sollecitazioni dei militari di procedere a un blitz per liberare gli ostaggi. L'anno scorso sono state uccise 16 reclute ad un posto di frontiera con Israele. Da qui la maggiore presenza militare egiziana nel Sinai del nord e quindi il timore che fatti del genere possano ripetersi. Dopo la liberazione è stato deciso di riaprire il valico di Rafah fra Egitto e Striscia di Gaza, chiuso fino a ieri sera. Grazie a tutti.